Una maxifrade fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Verbagna con un sequestro preventivo di oltre 2 milioni di euro. Perquisizioni e sequestri, oltre al VCO, hanno interessato anche le province di Treviso, Monza-Brianza, Como, Venezia, Milano, Torino e Biella. Il nome dell'operazione, coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri, è OFFSET, che significa compensazione proprio per rappresentare il metodo congegnato tramite un sistema di fatture false. Quello che è emerso, infatti, è un sistema collaudato di frode dell'IVA nel campo dei metalli ferrosi attraverso l'emissione di fatture false da parte di società cartiere. In particolare, le cartiere, risultate essere tutte vasori totali, emettevano fatture imponibili IVA nei confronti delle società beneficiarie della frode, le quali, in luogo del pagamento del corrispettivo dovuto, le compensavano emettendo false fatture per uguale importo in esenzione di imposta nei confronti della medesima cartiera. Le indagini sono partite dagli strani movimenti finanziari di un imprenditore verbanese, o Cile Iniziali, che risultava falsamente residente in Svizzera. Il principale fornitore della sua impresa, per oltre 4 milioni di euro di acquisti tra il 2013 e il 2015, era una società di un milanese morto nel 2000. Ci sono state anche delle intercettazioni. Se mi chiama il magistrato dico che sono frutti vendolo e che non mi occupo affatto di materiali ferrosi, per citare un brano agli atti. Un episodio singolare è stata una controversia civile, nata per il mancato pagamento di false fatture per 300 mila euro nel corso del giudizio. Per non corrispondere il pagamento veniva contestato alla controparte che le fatture, anche se riportate nelle dichiarazioni, erano false. Secondo gli inquirenti, gli organizzatori della frode fiscale erano MSC, di professione avvocato, residente in provincia di Milano, già agli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta e AR, pluri pregiudicato. Sono indagate 35 persone, coinvolte 34 società italiane e 5 con sede in Svizzera e nella Repubblica Ceca. Sono stati sequestrati 6 beni immobili, 6 terreni, liquidità su 52, rapporti finanziari, 8 auto, quote di partecipazione al capitale in 9 società, 4 orologi di pregio e una barca ormeggiata a Verbagna.